ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parleremo come avete visto dal titolo che tipo di trader sei questa domanda che in primis dovete farvi per andare a capire quale stile operativo volete utilizzare che sono tre principali stili operativi intraday swing e scalp per tanti si saranno già persi al primo termine però non preoccupatevi perché in questo video andremo all'incambi e a capire cosa sono le loro peculiarità ecco lo stile swing è lo stile che con il quale parte veramente un sacco di gente perché ti slega dal tuo tempo ovvero che un'operazione per esempio una volta presa l'entrata e essersi portetto avendo parzializzato e messo a break even ovvero che se il mercato dovesse tornare sulla linea di entrata e va stop per esempio non si va a perdere nulla non si va a guadagnare nulla a meno che tu non abbia preso appunto un parziale può durare appunto per settimane perché si vanno a prendere dei target magari che si trovano su dei time frame come quattro ore daily eccetera eccetera e questo comporta a fare veramente tanti pips anche oltre 500 600 1000 lo stile è un altro stile che diciamo è totalmente diverso dallo swing e lo scalp è per chi appunto vuole perdere le migliorazioni al mercato perché dico questo nello stile scalp diciamo che si scende veramente tanto di time frame si arriva certe volte a cercare la zona di entrata magari a m5 o m1 ovvero che la candela si chiude in un minuto quindi veramente è super veloce e bisogna essere veramente bisogna per far tanta pratica questo diciamo che lo stile di trading più veloce però più complicato allo stesso tempo perché si basa appunto come ho detto sui time frame veramente piccoli e bisogna andare a capire e bisogna anche per testare tanto questo perché diciamo che non è proprio immediato andare a capire le zone di entrata m1 m5 ve lo dico io perché sono già passato quindi diciamo che ho avuto un po difficoltà all'inizio e infine come ultimo stile di trading abbiamo l'intraday come diciamo la parola ovvero che tutte le operazioni si chiudono in un lasso di tempo tra le 24 e le 48 ore o anche meno solitamente questo stile di trading è molto meno frenetico perché come ho detto si ha più tempo e appunto è anche molto più facile a capire dello scalp perché è una via di mezzo tra lo scalp e lo swing è meno veloce dello scalp però più veloce dello swing perché la media delle due operatività diciamo che è basata su un lasso di tempo o piccolo o grande appunto si basa sui time frame h4 h1 45 minuti fino anche a scendere a m15 per andare a trovare la zona precisa di entrata e questo diciamo che sono i tre principali stili di trading mi raccomando io principalmente quando ho iniziato non mi sono andato a catapultare subito su uno stile di trading perché prima bisogna capire anche come lavori te in primis devi conoscerti devi conoscerti ecco e bisogna capire anche quale quale prediligi quale ti piace di più se vuoi sapere subito se vai a stop o a tt se sei uno che ha tanta pazienza eccetera eccetera quindi detto ciò grazie della visione video ciclo crudo è qui lasciami un like un commento se ti è piaciuto il video e lascia anche un'escrizione perché voglio fare crescere il canale spero che veramente questi video ti piacciono ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao ciao